Ciao e benvenuti in questo canale! Vediamo insieme come fare una torta stragolosa, ossia la torta al cocco e cioccolato! Iniziamo con il preparare uno stampo. Uno stampo da 24 o 26 cm. Lo ungiamo e lo infariniamo. Ora prepariamo l'impasto con 3 uova intere, un vasetto di yogurt al cocco e utilizzeremo il vasetto come misurino. Quindi riempiamo 3 quarti di vasetto con olio di mais, 2 vasetti di zucchero semolato, mescoliamo il tutto e aggiungiamo un vasetto di farina di cocco. Un vasetto di fecola, 2 vasetti di farina 00, mescolate sempre bene tra un ingrediente e l'altro. Un vasetto di panna liquida, 3 cucchiaini di cacao amaro e 100 g di cioccolato al latte sciolto a bagnomaria o al microonde, come preferite. Mescoliamo ancora prima di aggiungere l'ultimo ingrediente, ossia una bustina di lievito. Ecco l'impasto pronto per essere versato nello stampo. e cuociamo in forno statico già caldo a 180 gradi per 40 minuti. Come da buona abitudine faccio sempre la prova a stecchino. A cottura ultimata lasciamo il dolce per altri 10 minuti in forno spento e con lo sportello socchiuso. Dopodiché lo metteremo su una gratella e lo faremo raffreddare completamente. A questo punto possiamo sformarlo e metterlo su un piatto da portata. Ora potete cospargere semplicemente con dello zucchero a velo. Se volete una tortina per tutti i giorni, per la colazione, per la merenda. Se invece volete fare qualcosa di più carino da servire a fine pasto o da presentare agli amici, potete ricoprirla con della panna e della nutella. Vi faccio vedere come. Dobbiamo montare 100 ml di panna vegetale già zuccherata. La distribuiamo sulla superficie della torta e la stendiamo senza preoccuparci di dover fare una cosa troppo precisa. Poi andremo ad aggiungere della crema alla nocciola e faremo un effetto variegato. L'effetto variegato potrete ottenerlo o con i rebbi di una forchetta o con uno stuzzicadenti. Basterà fare dei movimenti semicircolari, così casuali. Quindi una decorazione semplice e allo stesso tempo golosa. Conservate la torta in frigo in un contenitore porta torta e si manterrà buona per diversi giorni, poiché è una torta umida. Poi, buon appetito! Ciao e alla prossima videoricetta! Vi lascio la lista degli ingredienti e vi ringrazio per aver guardato il video.